Eccolo Oh Oh Cazzo Madonna Oddio mamma fermati Mamma va indietro va indietro porca miseria Oh 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 shit Guess you're not driving the Ferrari Jesus Christ Fuck That's not good, that guy has to pay for that Oh 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 a a a a a a a a a ... ... ... ... ... ... Il risultato che Gryffin è ok, e ha giocato a tutti i cammini dopo che è successo. L'unico brother è bello a karate e tutto il resto, ma il brother can't drive. Il brother can't drive. Il questo evento è legato nella film Red Line, che centra sulle caratteristiche, gamba e men. I think at the exit of the turn, there was some gravel, you know, when you put the power down, traction control or not, to a certain point, when you have so much horsepower, you know, boom, the car goes away. He corrected the car, saved it, and then suddenly the car, you know, made a, you know, left turn on itself and we went backwards, you know, across a little barrier and down the ravine. Laerti, velha, 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 velha! Ma, laerti, velha! Ruggedi, man! Grazie! Faccio dei bambini, fa! Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, no,i, 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 no,i. Noi, no,i, no,i, no,i.